No, cari amici, quest'anno non bisogna aver paura della pista di ghiaccio, ma della giuria di fuoco. Io ho già tirato fuori il colbacco per venire verso Roma, dove insieme ai miei compagni di viaggio decreteremo il principe dei ghiacciai o la reginetta delle nevi. Vi aspetto a partire da sabato su Rai 1, notti sul ghiaccio. Un bacio da Enzo.